Signori, oggi ritorna la meravigliosa Zeta Chaos del Dark Web, ma che bella! Partirò da questa zona, da questo meraviglioso punto, si fa per dire perché sembra un posto dove rapiscono le persone e dovrò arrivare al faro. Ci saranno un paio di problemi, se muoio dovrò ripartire da capo, se mi crasha il gioco mi crasherà 3000 volte, dovrò ripartire da capo e altre cose che mi sono scritto ma non me le ricordo. E in più se dovessi vincere ci sarà la mazza sfida, dovrò partire dal faro e dovrò arrivare al sottomarino. Mi raccomando prima di cominciare un bel pollicione in su, in linea d'aria sono 8.9 km. L'elicottero non lo uso, cioè va bene tutto però l'elicottero mi sembra una mezza ladrata. Comunque abbiamo un Bobcat XL che cerca di cariarci alla fine alla fine. Ah la cosa bruttissima è che si sommeranno roba come 46 effetti diversi e ha degli effetti che veramente non ti permettono di capire una testa. Ecco tipo questa roba qua, quindi sarà veramente veramente divertente la situazione. Intanto il Franco se ne va, siamo già in linea d'aria, non lo so perché non vedo niente. Da che parte sto andando? È la 8.5, già grandi risultati. Cos'è sta roba? Aspetta che Franco ha preso la droga dello Sorbu, aspetta! Ma dov'è la mia macchina? Mi spiegate perché sto camminando con il culo? Qua potrei rubare un camion. Mi ridate il mio stack di mouse, per favore. Serve una macchina. Uh, bella la ganta. Se mi fai lo scherzone con l'Emplor divento pazzo. Carin di Letán. Prendiamone un'altra che è questa che sembra molto, molto più bella. In ponte ruiner. Grande upgrade. Abbiamo una macchina, abbiamo la destinazione, non vediamo niente ma meglio così perché abbiamo più visuale e ci possiamo concentrare di più sul nostro obiettivo. Oddio ma c'ho la forza. L'ultima volta che ho usato sta roba sono mezzo esplosivo perché la macchina mi è carambolata addosso senza motivo perché tu hai la forza, spingi solo. Ho perso un po' di vita ma non ci sono pro... Ok. Tra l'altro c'ho il paracadute. Quindi chi se ne frega? 4k vuol dire che semplicemente tu hai la luminosità a zero e basta. Benissimo. Perfetto così. Mi piace. Ora se possiamo mollare questo foro a microonde con le ruote mi farebbe veramente piacere. Se devo scegliere se andare a piedi o utilizzare un autobus preferisco andare a piedi. Ci sono le mine anti-uomo dello zio. Perfetto. Perché c'ho una valigetta in mano? Oh mio Dio aspetta sono scivoloso. Sono troppo veloce. Devi andare piano e non devi toccare nessuno. Ti ho preso una paralisi Franco devi andare avanti. Grazie. Abbiamo perso l'effetto. Comunque non perdiamo la speranza. Che è successo? Oh mio Dio. Siamo troppo forti. Sì però non vedo una... Cioè grazie a questo dato che vado a sbattere contro un palo. Visuale cinematica che ci salva. Tra l'altro io sto guidando sotto. 72 km orari ma sono fantastici. Non potevo stare zitto. Ovviamente no. Accelera. Sei meraviglioso vai prendilo. Aspetta c'ho anche la forza. Sono il muletto più forte. C'era un piccione con un lanciarazzi dentro al motore di questo coso. C'è tipo la forza non riesco più a voltare. Tra le cose che avevo scritto. Sì mi ero dimenticato anche se mi carica un salvataggio si riparte da cat. Oh mio Dio Franco strafatto modalità finale. Potrei rubare questa macchina che fa le capriole che mi intriga? Perfetto sono tipo un indiano sul suo tappeto volante. Dove sentite questo profumo di vittoria? Io sì. È incredibile. È il re dei coglioni quest'uomo. Dai. Ora io c'ho un gigafranco. Levati. Siamo vi... Oh! Ma chi è che mi lapida col pattume? Non solo mi sto praticamente scopendo Optimus Prime. C'ho anche 5 stelle di polizia. Ah non sono sparite. Quando vi dico che la Chaos Mode del Darker c'ha dei problemi. Siamo diventati un tombino. Non possiamo essere fermati da niente. Io cosa ci capisco così? C'è neanche radar ti aiuta. Mi ha teletrasportato. Molto creepypasta. Ok. Potrei avere per grazie divina una macchina? Sta solamente rotolando l'intero porto. Che vuoi che sia? Tutto è tornato alla normalità. La cosa più bella è quando ti metti tipo lo standus completamente alto. Cos'è? Tanks 1-3-5-1. Cosa vuol dire? Oddio. Era quello che stavo dicendo. Grazie. Il punto è che non mi posso voltare. Perfetto. È crashato il GTA. Bella questa. Aspetta, aspetta, aspetta. Che sto vedendo qualcosa di interessante. Eccola qua la macchina che ci farà vincere. Il bello della penumbra è che ha un gran... Mi è planato l'oziosi del finestrino. Guardala. La nostra vettura. Fermati. Non vorrei rompere i baroni ma mi sembra un pochino esagerato, no? Ultimamente ho dei problemi con il Sadler e con il Bobcat. Non so perché. Per me sono diventati la stessa vettura. Mi spiega dove sono andato a finire le mie ruote? Potrei prendere una macchina che non sia per favore cementata? Sembra solo a me che riesco a fare più metri senza la macchina. Ma ci sono delle macchine self-service qua. Rifiutare è pura scortesia. La fai assolutamente di sulta. No, cosa è una foto? Ancora meglio. Oggi si vince e si umilia la sfida anche. Non capisco niente. Questa è la visuale standard di Franklin. Se tu ti metti in prima persona con Franklin solitamente le cose le vedi così. È una zia questa. Dammela. Sì, però non ti rompere. Resta... Ok. Ma sei sempre guidata così bene sta macchina. Ma quel palo dove era? Scusate che non... Non è... Oh! Siamo in record tra l'altro. Fare il record dopo mezz'ora di sfida mi sembra un pochino brutto però. Bene. Franco, se non spari magari non ci danno le guardie. Perché siamo nella zona della caserma! No, 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 no. Non ci sono le guardie. Grazie. Così almeno si ferma. Se faccio così non spara. Siamo troppo intelligenti per questo gioco. La sfida più facile di tutta la mia vita. Tre chilometri mangiati così come se fossero burro. Modello strano di Stannier. Vai, vai, vai. Mi scusi. Oddio. No, 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 no. No! Cos'è sta roba? Cosa sta succedendo? Posso prendere una macchina? Oddio, questa è bruttissima. Pigaglie, sei mia. Vieni fuori tu! Vai via! Ho cinque stelle di polizia. E la macchina l'ho scassata contro un muro. Cioè se mi perdo le guardie anche con sta roba è incredibile. Non tagliarmi la strada. Signore, mi dispiace. Siamo troppo forti. Signore, adesso dovete andare per schivare sto coso? Bravi, bravi. Sì, sì, sì. Accoppiateli. Fate quel cavolo che vi pare. Ho la macchina più bella del mondo. Non so cosa sia successo. C'è il limite. Guarda come le trapassa. Potrei, per favore... Cioè mi è passato lo ziosi a dieci centimetri. Mi mollate in franco, per favore. Ok, non si vede più nessuno. Ancora cinque stelle. Eh, vabbè, dai. Ma senza macchine, mamma mia. Non vedo nemmeno quanta vita ho. Ma se è una scimmia sui binari? Super jump. Ce l'ho da molto. Non lo sapevo. C'ho anche la forza di Cristo. È ritornato l'elicottero. Guarda, se mi dovesse ridare una pigaie... Sì, però ho capito tutto. Ma l'elicottero delle guardie che fa il kamikaze, no! Sono fortissimo. Sono ancora vivo. E il punto è quando finirà questo effetto. Ok, perché finché ce l'effetto tu rimandi in vita. Ma non appena si disattiva tutti sti casini che si sentono, compreso l'aereo che arriva addosso, te li prendi. Mi trovate un lato positivo nel fare la Z Chaos, per favore. Put cani smesa. Comodo guidare così. Non ditemi che sei già rotta, ho preso una botticina. Ho capito come muovermi. Siamo diventati Jackie Chan. Perché sono diventato un microonde? Cosa fanno questi due qua? Perché quello c'ha la mano nei pantaloni dell'altro? Serve una macchina. Vai, Franco! Questo è il tuo main. Quando sei normale sei così. Quando sei ubriaco vedi tutto normale, praticamente. Perché anche lei boot che non è ribaltata? Introduciamo una nuova regola perché mi sono otteritato i maroni. Se esco dal mondo sono comunque salvo. Col teletrasporto no, ma se esco dal mondo sì. Pacchetti perse. Quello che aveva in nezione quando giocava a Fortnite. Grazie. Ma è gentile da parte, su a farsi da parte. La seconda run più bella. Forse la seconda run più bella. Cioè se riesco a rientrare qua sì. Se si rompe contro il muro un po' meno. Forse la mossa che sto facendo è sbagliata. Ma raga, io davanti ho una foto, c'è un antley. Perdonatevi, ma non ci penso due volte. In campagna non c'è problema di traffico. Era quello che mi serviva. Bello. Emperor. Ho voglia di tirare una testata contro il muro. Dato che il gioco c'è la madre che è una... Maior, sì. Mi teletrasporta e riparto dal teletrasporto. Franco, modalità, piastrella. Cerca di vincerla. Oddio, io posso alzare il livello del mare con lo sguardo. What a fucking incredible cosa. Dove sto andando però che non sto capendo niente. Potrei giocare a GTA V una volta tanto con una persona normale. Posso dire una cosa. Uno degli inizi più normali che abbia avuto finora. Io da che parte devo andare? Dall'altra parte. Oddio, grazie. Oh, la portrait. Quando fa così è perché tipo ti nasconde gli effetti. Gli effetti. Mi piacciono queste cose. Però non vedo niente. Quindi esplodono centrale, il buco lì e mezzo. Qual è l'unica cosa che non ho messo nel pacchetto convenienza? Il crash. Un fantastico carroattrezzi. Oh mio Dio. Cosa sto vedendo. Però vi devo dire. Sapete che mi piace così. Sembrano quei giochini arcade. Ok, io sono vedi praticamente da satana. Un simpatico no control. No, ma tranquillo. Tanto con il control o senza il control non mi posso muovere ugualmente. Non lo rompa. Non lo rompa. È mio quel... Bello però. Cioè le ciambelle le fa bene, vai. Il semino è ancora intatto. No, oddio. Cioè non è rotta una parola grossa. Cioè non ha praticamente una ruota. La brista. Dove sono andato adesso? Quindi c'è vita qua sotto. Benissimo. Mi fa piacere saperlo. Potrei andare avanti senza incontrare nessuno di strano. È tornata Bikini Bottom. No, io dovrei passare qua in mezzo non per essere polemico. Uno di vita. No, non romperà. Ultimo tent... Ultimo tentativo prima che il Titanic mi finisse sulla testa. È quel gol che non ti aspetti. Dribli il portiere, ti metti a palleggiare davanti a lui e poi fai gol. Fidatevi di me. Metri già fatti. Cosa sta succedendo in mezzo alla strada? Per favore, vi fate controllare da un dottore. Mi prego. C'ho una moto. Potrei per favore sapere dove il cazzo sta andando? Mi basta questo. Oddio, mi ricorda San Andreas con queste proporzioni. Che poi le case su GTA 5 sono anche mediamente basse. Con la moto noi siamo estremamente forti. Grazie. Il mio cervello aveva bisogno di queste cose. Teoricamente se gira al centro non dovrebbe succedermi niente. Benissimo. Ho la moto che non ha le ruote ed è stretta. Franco che si è allargato di 30 metri. Il nostro record in linea d'aria sono 2.2. C'è un posto di blocco. Superato abbondantemente. Non posso governare più la moto. Benissimo. Ehm... Fake esplosione. Non è esplosa in realtà. 1.4. La challenge più semplice che abbia mai fatto in tutta la mia vita. Calma. Devo tornare indietro. Giù per i monti. No moto. Tieni duro. Non farmi questo. Ok. Si è rotta la moto. Non è la migliore delle situazioni. Diciamo che era più divertente prima. Mancavano 1.4. E sembrava che... Non va più. Ha preso fuoco. Ricapitolando. Cosa ci sono in montagna? Soprattutto quando non sono arma... Eh no ma crepa qua. Che dribbling! La perdiamo. Ma di quanto? Di 534 metri.